Come ben sapete, come ben sappiamo, abbiamo vinto sia le elezioni provinciali che le elezioni regionali. Una buona parte di questo è dovuto anche a un'ottima comunicazione. Questo è quello che vogliamo sviluppare questa sera. Abbiamo numerosi ospiti, purtroppo all'ultimo momento ci ha dato il direttore della padaria perché è impegnato e ha chiamato la nostra la comunicazione è stata una delle parti più importanti e fondamentali per la vittoria sia qui in provincia sia in regione. Questo è quello che vogliamo questa sera trattare. Grazie.